Come ogni anno Gela rivive la tradizionale processione del Cristo nella giornata del venerdì santo, giorno di raccoglimento, di digiuno e di astinenza, in cui la Chiesa ci presenta la passione e la morte redentrice di Gesù. È il momento culminante dei riti pasquali, il terzo giorno delle celebrazioni della settimana santa gelese e delle processioni che accompagnano le sacre effigi del Cristo e della dolorata. In Chiesa Madre da questa mattina una moltitudine di fedeli ha raggiunto il luogo di culto sostando in preghiera davanti ai sacri simulacri e all'urna che questa sera trasporterà il Cristo morto. Dopo la celebrazione dei salmi, la solenne rievocazione del pellegrinaggio penitenziale del Cristo sofferente che porta il peso della croce e della passione seguito dalla dolorata. Il simulacro viene condotto al calvario per la crocifissione. Caratteristica del venerdì santo gelese è il gruppo di lamentatori ricomposto da un coro di anziane donne che ha accompagnato le processioni della settimana santa e che continua a suscitare tantissima commozione tra i fedeli, accentuata dal triste rullo del tamburo e dalla marcia funebre scandita dalle note della banda musicale. Nella tarda mattinata l'antico simulacro settecentesco in cartapesta e cuoio del Cristo viene collocato accanto alla grande croce del calvario e issato lentamente dove rimane per tutto il pomeriggio per essere venerato da migliaia di fedeli che riempiono la piazza. Le braccia si distendono sulla perpendicolare del legno. È uno dei momenti più suggestivi e commoventi delle celebrazioni. Nella piazza gremita scende il silenzio. Accanto al Cristo viene collocata l'effigie della dolorata. A mezzogiorno la crocifissione è il messaggio del vescovo Monsignor Rosario Gisana alla città. Dopo la preghiera della divina misericordia la via crucis è animata dai giovani e la liturgia della passione morte di Cristo. Questa sera alle 19 e 30 la deposizione dalla croce e l'imponente processione con il Cristo morto riposto nell'urna portata a spalla dai marinai gelesi. Domani giorno di sommo lutto. La chiesa medita la morte di Cristo nell'attesa della resurrezione. In chiesa madre alle 9 la solenne suggestiva ufficiatura e riposizione del Cristo morto nell'altare della passione. Alle 23 solenne veglia pasquale e messa di resurrezione. Domenica 27 marzo nella chiesa del rosario. Alle 9 e 15 alle 11 alle 12 alle 19 e 30 alle 20 e 45 sante messe.